ciao oggi cambio di programma sempre gli sci ma sci da fondo invece che sci d'alpinismo direzione festiona proviamo a fare quindi da festione a vinadio con gli sci da fondo comunque siamo partiti la fatica però non siamo ancora caduti breve tratto di cammino e da lì ci rimettiamo in avolici e via verso vinaglio eccoci di nuovo che ci fanno fare una camminata non si sa come mai comunque a fare sci alpinismo c'è molta meno gente molto meglio molto meglio meno faticoso meno faticoso più o meno però non ci sono code non devi fare biglietti non c'è traffico e quindi mi sembra un po' assurdo che uno non possa fare sci alpinismo o non si possa andare a lasciare in pista quando a fondo puoi farlo vabbè però dai giornata fantastica vediamo un po' va siamo quasi ad aizone arrivati al centro fondo laggiù aizone arrivati al centro fondo laggiù aizone la pista è finita siamo al giro di boa fa tutto ombra un freddo cane e adesso ritorniamo in ballata l'andata è andata l'andata l'andata è finito attraversiamo la strada è finito strada e di nuovo discesa questiona Pestiona! Eccoci arrivati, sani e salvi! Oh Pestiona! Ce l'abbiamo fatta praticamente un po' più di 30 km Pestiona, Vinadio!